A Castelvetro Bancomat fatto saltare, è successo alle 3 di notte la figliale della Banca di Piacenza che ha subito ingenti danni dall'esplosione, anche se la struttura è stata giudicata agibile. Per far saltare il Bancomat i banditi potrebbero aver utilizzato dei candelotti, ad insospettire le forze dell'ordine, infatti l'odore che si respirava nella zona, diverso rispetto agli altri colpi di questo tipo con l'acetilene. I carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola hanno eseguito dei prelievi che ora sono al vaglio dei RIS, il bottino è da quantificare.